BELLA A TUTTI RAGAZZI Io sono Valerio e io sono Francesco E oggi siamo nella top 10 dei personaggi più amati degli animo o comunque dei manga Non è una classifica a livello personale, infatti non sono i 10 personaggi che amiamo di più Ma l'abbiamo preso da un sito che a sua volta ha preso varie persone e gli ha chiesto quali erano i loro personaggi preferiti In modo da averne una classifica più o meno vera, più o meno anche se poi i gusti sono i costi Sui grandi numeri diciamo che può essere in generale una classifica equa per tutti Al decimo posto di questa classifica troviamo Yuffie, Yuffie il nostro personaggio di One Piece Anche se non me l'aspettavo al decimo posto pensavo un po' di più a Zoro Ma beh anche se nelle classifiche che fa Oda lui è sempre il primo E quindi diciamo che al decimo posto abbiamo trovato appunto Yuffie Al dono posto troviamo Itachi Uchiha, fratello di Sasuke Uchiha proveniente ovviamente da Naruto Ragazzi questo personaggio piace a molti proprio perché per il suo carisma e per anche i suoi poteri che sono molto forti E soprattutto piace più di Sasuke stesso quindi complimenti a Itachi All'ottavo posto troviamo Saitama il protagonista di One Punch Man Lui con un pugno distrugge tutti Me l'aspettavo anche perché era un personaggio molto divertente e particolare e che fa ridere Quindi all'ottavo posto Saitama Al settimo posto troviamo Vegeta Ragazzi che vi devo dire di Vegeta Vegeta è Vegeta Ed è l'antagonista per eccellenza degli anime diciamo Perché c'è questa rivalità tra Goku e Vegeta che continuerà probabilmente per sempre E ora non è un personaggio veramente molto amato Ed addirittura in certi casi più amato di Goku Ma non in questo caso ovviamente Al sesto posto troviamo Light Yagami O comunque il Kira di Death Note Lui è riuscito a uccidere tantissime persone Ma anche a conquistarsi un ottimo posto in questa classifica Infatti come ho detto troviamo al settimo posto Però non è riuscito a battere L Mentre è in anime Al quinto posto troviamo Naruto Uzumaki Protagonista dell'omonimo anime e manga Pietra miliare degli anime e proprio dei manga Perché diciamo è stato uno dei primi Insieme a Dragon Ball e a One Piece A entrare nelle nostre case E quindi ovviamente si aspettava una posizione abbastanza alta in questa classifica Che riesce a trovare Al quarto posto invece troviamo Kakashi Il maestro di Naruto Se Naruto è iniziato in questa classifica Anche Kakashi deve entrarci per forza E qui nel quarto posto abbiamo trovato appunto Kakashi Al terzo posto troviamo Edward Hedrick Protagonista di Full Metal Alchemist E' veramente personaggio carismatico Che mi è piaciuto veramente tanto Tantissimo E' in questa classifica perché ovviamente non è piaciuto solamente a me Ma anche a moltissime altre persone Al secondo posto troviamo Che era più o meno scontato Infatti troviamo Goku Goku il nostro protagonista è di Dragon Ball In questo caso è riuscito a battere Vegeta Ma come diciamo lo batti quasi sempre E lo troviamo al secondo posto Però il primo secondo me non ve l'aspettate Anche se è fatemente locale Però potete ricordare E infatti al primo posto troviamo Pual Il fantastico animaletto di Yanko Che veramente ha conquistato il cuore di Tano No scherzavo Al primo posto c'è L Infatti come ha detto Francesco L in questo caso riesce a battere Kira E si aggiudica il primo posto Ragazzi è un personaggio che veramente tutti amano Sicuramente più di Kira Anche se a me piace più Light yagami Però in generale L Devo ammettere che è un personaggio veramente fatto bene Ragazzi se questo video vi è piaciuto Lasciate un mi piace e commentate Passate alla nostra pagina Facebook E anche dal nostro sito Vedete i nostri altri video Dove facciamo di tutto Recensioni Top O comunque Tanto altre orie O comunque tante cose Riguardano gli anime e i male Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi